Ho frequentato il ginnasio via d'Arizzano, poi io al liceo sono andato all'Aquila, tu hai seguitato qui il liceo immediatamente dopo la guerra. E ricordo un episodio. Nel febbraio del 1944, questo tanto per precisare un po', quando siano giusti i concetti espressi, i giudizi espressi sia dal sindaco che dal professore prima di me. Noi venivamo dalla stessa classe, alla fine dell'anno ci salutammo come sempre, poi accadono tante cose, perché poi viene l'8 settembre l'invasione dell'Italia da parte dei tedeschi, perché viene rotto di visione, con tutto il resto e la creazione della Repubblica di Salò, con un esercito che si stava organizzando allora. C'era stato a Celano il rastrellamento del 15 febbraio del 1944, quando 157 celanisti, siccome si stava organizzando la banda armata, era stata già organizzata la banda partigiana, fu fatto questo rastrellamento, arrivarono a Celano, 800 soldati della Wehrmacht, dell'SS e rastrellarono tutto il paese. Nei presero 157, li portarono a Nardelli, ricorda perché Nardelli fu preso anche il paese. Fra questi presero anche mio padre, mio fratello, e furono portati questi assieme a Corbi, assieme a Nardelli, all'Aquila. E poi a Centopunti. Ecco, all'Aquila. Io naturalmente ero ancora libero, quindi mi davo da fare per vedere che cosa fare per dare un aiuto a quelli che stavano lì dentro. Sotto i portici dell'Aquila io mi incontrai con l'italiano amicone. Vedete la storia, com'è fatta, gli avvenimenti, e quando è giusto quello che si è auspicato da parte di chi mi ha preceduto. Ci incontrammo sotto i portici, ci salutammo, eravamo stati compagni di scuola fino alla chiusura dell'anno scolastico. E io dissi, che fai qui? E lui mi disse la stessa cosa. Poi lui mi disse, no, io dissi a lui, sono qui perché mio padre e mio fratello stanno dentro, sono venuto per vedere quello che si può fare, eccetera, eccetera. L'italiano amicone mi disse, guarda, io sto qui per tutt'altro. Io sono venuto oggi ad arruolarmi nell'esercito della Repubblica di Salute. Cercate di comprendere lo stato d'animo mio, lo stato d'animo suo. Noi in quel momento ci salutammo abbracciandoci. Lui prese la sua strada, io presi la mia strada. Io ho fatto il partigiano, lui ha fatto il militante di quell'esercito della Repubblica di Salute. E passato il tempo, è finita la guerra, noi ci siamo rincontrati sulla piazza di Celano. Io ero un attivista, un dirigente del Partito Comunista. Lui allora era un attivista, un dirigente delle prime organizzazioni di destra, se ne lo so, l'uomo qualunque. Noi ci salutammo, ci abbracciamo anche in quella circostanza. L'italiano ha seguitato per la sua strada, io ho seguitato per la mia strada. E qui sono d'accordo, sindaco, con la riprovazione di quello che accade oggi. Quando la politica si fa come un vercivonio, insomma, ecco, ci mettiamo all'asta chi più ci dà, lì noi cediamo. Questi sono i rapporti che ho avuto con lui, che abbiamo ancora oggi. Ci rincontriamo in questa circostanza per parlare di quel periodo e per dire che quelle fotografie che si vedono in questo libro non sono lì come cosa statica, perché poi anche le ditascalie, le illustrazioni, sono fatte così belle che spingono la gente a fare a loro volta una ricerca, perché basta aprire questo libro e trovare una qualunque pagina per vedere che è possibile richiamare, anzi no, che ci richiama, alla memoria ciò che sotto il fascismo è accaduto. Io sono stato contro il fascismo perché venivo da una famiglia diretta da un uomo che era irriducibilmente socialista non voleva iscriversi al partito, al partito fascista fu costretto ad emigrare più volte, emigro in America, emigro in Africa per aiutare la propria famiglia e io ricordo che mio padre nel momento in cui allora leggeva il messaggero nel momento in cui leggeva il messaggero lo leggeva un po' alla rovescia, perché poi parlava con noi, ci indottrinava a casa e io resistevo, ero quello dei figli che resisteva di più, perché nel contempo questo indottrinamento a me veniva anche a scuola, soprattutto da parte del professore di cultura militare, ti ricordi? di cultura militare e resistevo a quello che cercava invece di farmi capire mio padre, ho resistito fino all'ultimo però attenzione, perché quando si dice che il fascismo ha avuto un consenso popolare io ricordo che questa era una realtà soprattutto nell'anno 38-39, c'era una minoranza, c'era una minoranza che resisteva ed era una minoranza molto limitata, c'erano le masse, le folle, osannavano, osannavano perché è vero Mussolini aveva capito allora, aveva capito quello che oggi per esempio ha capito molto bene Berlusconi cioè il fatto di mediare, di utilizzare mass media per impressionare la gente, per impressionare l'opinione pubblica e tutto appariva liscio, tutto appariva come una cosa tranquilla in Italia eppure, ecco, queste poi sono i risposti